Buonasera a tutti. Prima di incominciare, due comunicazioni di servizio. La prima, prendete nota, vi è già stato dato un opuscolo, una promemoria, che l'incontro del 14 marzo col professor Garattini è stato anticipato di mezz'ora, quindi 5 e mezza e non le 6. Seconda comunicazione che vi prego di trasferire alle vostre figlie, le vostre nipoti, l'8 marzo il professor Bianchi terrà sempre alle 6 di sera un incontro studiato apposta per le giovani e ragazze in tema di contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili. Un argomento molto delicato, poco sottovalutato dalle ragazze, quindi se ci aiutate a fare promozione di questa iniziativa ve ne saremo grati. Veniamo adesso all'incontro di questa sera. Questa sera non sarà un talk show, un'intervista come quella fatta dall'amico Edoardo Rosati il mese scorso al professor Arari, ma ci verrà raccontata una storia meravigliosa, affascinante, a tratti triste, una storia d'altri tempi, raccontata con grande maestria dal nostro professor Zompatori, da soli tre mesi primario della radiologia del gruppo multimedica, ma già una star per noi. Le lascio la parola. Troppo gentile, troppo gentile. Grazie mille per la presentazione, grazie a voi per essere qui questa sera. In effetti è un po' una sfida perché vi voglio parlare degli effetti biologici dei raggi X e comunque delle radiazioni ionizzanti in un modo sperabilmente non tanto tecnico perché altrimenti vi annoierei. E così ho pensato di partire proprio con una storia, con un racconto vero e proprio che è la storia di Blanche Marie, seguendo un po' l'insegnamento di Michel de Montaigne che in uno dei suoi saggi più famosi diceva io non insegno, racconto. Questa è stata un po' sempre la mia regola personale nella mia vita di professor universitario, mestiere che ho fatto proprio fino a tre mesi fa e in parte continuo ancora a fare a Bologna che è la città da dove vengo. Dunque ho tratto gli elementi di questa storia da un vero e proprio romanzo che potete ancora trovare in librerie se volete, pubblicato da Hyperbore che è il libro di Blanche Marie che si rifà una storia vera e per la parte più tecnica ha un libro che non vi consiglio, un po' perché è in inglese e un po' perché è molto tecnico, che è lo strano bagliore, la storia delle radiazioni, un libro scientifico. Dunque per cominciare il racconto i raggi X vengono scoperti da Rengen, Wilhelm Conrad Rengen nel 1895, quindi più di un secolo fa, questo signore proprio lui nell'età in cui ha fatto questa scoperta e questa è la prima immagine ottenuta con i raggi X che la storia ci tramanda, sappiamo che è la mano della moglie di Rengen che si chiamava Bertha, Bertha Rengen con l'anello noziale, un'immagine ottenuta con un tempo di poso lunghissimo, in condizioni precarie però è la prima immagine nota, una scoperta del tutto occasionale ma si sa che come diceva Pasteur il caso favorisce le menti preparate e quella di Rengen era una mente preparata. Per questa scoperta, pubblicata da lui in un piccolo lavoro di poche pagine, fondamentale però, un po' come quello della relatività ristretta di Einstein, poche pagine che hanno segnato la storia della scienza, lui ha ricevuto il premio Nobel nel 1901, questi sono raggi X, la scoperta dei raggi X, cioè la produzione artificiale di radiazioni elettromagnetiche ionizzanti. Questo secondo personaggio un po' meno noto è lo scopritore della radioattività naturale, Becquerel, un famoso scienziato francese vissuto più o meno negli stessi anni che esattamente l'anno dopo di Rengen scopre anche lui casualmente la radioattività naturale, si trattava in questo caso di un elemento, l'uranio radioattivo e per questa scoperta riceve pochi anni dopo premio Nobel insieme con i conigi Curie. Su questo signore qua, questo grande scienziato, ci sono tante storie, una delle più divertenti è che lui una volta si dimenticò un pezzettino di roccia radioattiva nel taschino del panciotto, si accorse che qualcosa non andava quando dopo un paio di mesi divenne un'ustione cutanea in corrispondenza del taschino del panciotto e andando a cercare trovo questo piccolo sasso radioattivo che si era dimenticato. Dunque cerchiamo di capire che qui parliamo sia di raggi X che sono prodotti artificialmente con le macchine radiologiche che conoscete senz'altro, sono apparecchi tradizionali oppure angiografi oppure la TAC, questi sono raggi X, sono radiazioni ionizzanti non corpuscolate che vengono emesse istantaneamente, cioè nel momento in cui passano attraverso il vostro corpo viene scattata un'immagine radiologica ma non è che restate radioattivi dopo questa esposizione, è puntiforme, è un attimo. Poi esiste la radioattività che è la produzione di radiazioni sia non corpuscolate come i raggi X, in questo caso si chiamano raggi gamma, sia corpuscolate come elettroni o nuclei di elio, cosiddette particelle alfa, che vengono emesse da elementi radioattivi naturali oppure da radioisotopi che vengono prodotti artificialmente in laboratorio e questo serve in medicina, anche in medicina, per fare le scintigrafie, per esempio la scintigrafia ossea, tanto per dire una delle più famose, scintigrafie polmonari e anche oggi la PET di cui avrete sentito parlare, cioè la tomografia con emissione di positroni. Quindi sono questi due cardini della diagnostica per immagini che si basano sulle radiazioni. Parlavamo prima dei conigi Curie, qui vedete lui si chiamava Pierre Curie e lei si chiamava Marie Sklodowska Curie, era originaria della Polonia ed era discendente di una famiglia nobile caduta in miseria, emigrata poi a Parigi dove aveva studiato fisica e incontrato il marito. Con lui hanno lavorato parecchi anni, hanno scoperto insieme un altro elemento radioattivo, cioè dopo l'uranio loro hanno scoperto un altro elemento che in onore della sua patria lei chiamò Polonio, Polonio radioattivo, è seguita la scoperta del radium. Tutti e due hanno preso il premio Nobel per la fisica nel 1903 insieme con Becquerel, quindi exequo in tre, solo lei nel 1911 ha preso un secondo premio Nobel in chimica questa volta, non in fisica, per le sue scoperte. Vi faccio notare che Marie Curie è l'unica donna ad aver avuto due primi Nobel e anche l'unica persona in assoluto ad aver avuto due primi Nobel, oltre a Linus Pauling, lo scopritore della vitamina C, che però ha preso il secondo premio Nobel per la pace, quindi non per ragioni scientifiche. Quindi Marie Curie è una personalità scientifica assolutamente straordinaria. Hanno lavorato insieme per anni, lui è morto presto nel 1906, indebolito dalle radiazioni ionizzanti, probabilmente aveva contratto la leucemia o una forma di anemia plastica. Era talmente debole che una volta girando per strada non fece a tempo, non ebbe la forza di scansarsi mentre arrivava un carro trainato da un cavallo, uno di quei carri pesanti che usavano una volta, finì sotto le ruote del carro, finì schiacciato e morì. Questa è la morte di Pierre Curie. Lei sopravvisse ancora molto, lavorò e visse fino al 1934. Ebbe anche altre disavventure, che magari è un po' divertente ricordare qua, qualche anno dopo la morte del marito intrecciò una relazione sentimentale con questo famoso fisico scopritore degli ultrasuoni, che ha rasentato per un pelo e non ha preso il premio Nobel anche lui, si chiamava Paul Langerin. Purtroppo il signor Langerin aveva una moglie gelosa e anche parecchi figli. La moglie insospettita seguì il marito, scoprì la tresca e fece pubblicare sui giornali e le lettere che non c'era Whatsapp o Internet allora, le lettere che due si scambiavano e che legavano con nastrini, rosa, non so, con qualcosa del genere. Guardate i giornali scandalistici dell'epoca come ritraggono Marie Curie nelle vesti di una megera, Ruba Mariti, no? All'epoca dello scandalo. Lei ebbe un trauma spaventoso da questa storia, i due si lasciarono. Questo signore che all'epoca era il presidente della commissione del Nobel, un fisico svedese, Svan Terrenius, le scrisse consigliandola di non andare a ritirare il Nobel a Stoccolma, il secondo Nobel, quello del 1911, perché insomma lo scandalo era talmente grande e tutta Europa conosceva questa storia. Lei scioccata andò via dalla Francia e si rifugiò per qualche mese a Londra, in Inghilterra, ospite di questa signora che era una fisica, sottiosa di fisica, Emma Ayrton, come vedete dalla faccia e dall'atteggiamento era un tipo molto deciso. Questa signora l'ha convinso che non solo doveva andare a ritirare il Nobel, ma doveva anche importarsene un poco di tutta questa storia. Erano tempi in cui l'Inghilterra era agli albori del femminismo, ma era la guida di questi movimenti femminili. Qui vedete una delle prime suffragette, la signora Pankhurst, che viene arrestata, sollevata di peso da un sergente inglese durante una manifestazione nel 1914. Pochi anni dopo, grazie alla determinazione di questi signori inglesi, l'Inghilterra approvò il diritto di voto alle donne, però ha limitato le mogli dei capi famiglia con alcuni requisiti di età. Solo più tardi nel 1928 il suffragio fu esteso a tutte le donne inglesi, in Italia ci siamo arrivati nel 1945, però con esclusione delle prostitute vaganti, cioè di quelle che lavoravano per strada e solo dopo qualche anno vennero ammesse anche loro al diritto di voto. Noi arriviamo sempre con un po' di ritardo. Superato tutto questo, lei torna a Parigi, ricomincia a lavorare tranquillamente, fonda questo istituto che si trovava nel lungo Senna a Parigi, che chiamò Istituto del Radium e che oggi non esiste più, è stato abbattuto, questa è una veduta interna del suo laboratorio e questa è lei che lavora nel suo laboratorio ai tempi della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale la vede di nuovo protagonista Marie Curie, pensate che lei prese la laurea in medicina in pochissimo tempo, inventò questi furgoncini che si chiamavano Pti Curie, piccoli Curie, erano dei furgoncini attrezzati con delle attrezzature radiologiche primordiali e con questi furgoncini girò il fronte negli ultimi anni della guerra per aiutare i soldati feriti, soprattutto per individuare le schegge e i proiettili allo scopo di farli operare, di salvare le loro vite. Dopo primi tempi arrivò addirittura a mettere in campo 200 di questi furgoncini, ben 200, venne copiata anche dai tedeschi, dagli austriaci e persino dagli italiani, qui ci sarebbe tutta un'altra lunga storia da raccontare, piuttosto divertente, non finirei più. Qui la vedete in veste di infermiera di guerra insieme con una delle sue due figlie, Irene Curie, questa figlia Irene ottenne, pensate anche lei, il premio Nobel per la chimica nel 1935 insieme col marito che si chiamava Frédéric Jolionfil, i geni erano buoni in famiglia. Qui vedete un'immagine dei tempi della prima guerra mondiale con uno di questi furgoncini e un'immagine primordiale in cui si vede un proiettile nel torace di questo povero soldato. Più tardi ricomincia i suoi studi, fa dei viaggi in America, questo insieme con la figlia Eva, questa qua, che veniva chiamata dai giornali dell'epoca la ragazza dagli occhi di radium perché aveva gli occhi verdi, la vedete in questa foto nel 1921 con l'impresidente degli Stati Uniti e finalmente molto molto anziana durante una vacanza sulle Alpi italiane in compagnia di Albert Einstein. Nella vecchiaia era molto malata, ebbe cataratte che le diedero moltissimo fastidio, all'epoca non c'era una chirurgia adeguata, ma anche una malattia ematologica come il marito, probabilmente un'anemia plastica che la indebolì sempre di più, finché morì nel 1934, lasciando più di 450, 80 fondamentali lavori scientifici. Io avevo ancora a Bologni un suo libro di fisica che aveva pubblicato, e qui la vedete insieme con una delle figlie bambine, la figlia indica col ditino la mano della mamma dove c'è una lesione, un'ostione da radiazioni. Nello stesso periodo si vede questo manifesto della Lega Nazionale contro il cancro che risale proprio a quegli anni, qui dice vincere il cancro con le radiazioni elettromagnetiche. Lei venne sepolta in un paesino dove aveva una casa di campagna comprata col marito, un paesino che si chiama Che, vicino a Parigi, famosa perché c'è un bellissimo castello, ma anni dopo, 60 anni dopo, il governo francese decise di onorarla trasferendo la salma al Panteon che vedete qua, che è un po' come il Panteon di Roma, dove ci sono le salme dei francesi illustri. Pensate che all'epoca quando la trasferirono studiarono le ossa di Marie Curie con un apparecchio per rilevare le radiazioni e scoprirono che erano osse estremamente radioattive, tant'è che venne chiusa in una barra di piombo prima di essere portata al Panteon. La seconda protagonista della nostra chiacchierata si chiamava Blanche Wittmann, detta la regina dell'isteriche, morta nel 1913. Avete mai sentito parlare? Di Marie Curie senza altro, di Blanche Wittmann no, questa è la parte più stimolante, forse più curiosa del mio racconto, è proprio lei, queste sono le uniche immagini note di questa regina delle esteriche, è lei. Era una ragazza della provincia francese, figlio di un farmacista con una storia terribile alle spalle, pare fosse stata violentata dal padre, tutto questo le procurò sicuramente dei disturbi mentali e per questi disturbi venne ricoverata all'ospedale della PTS Alpetriere che esiste ancora a Parigi, questa è un'immagine moderna, detto Il Castello. All'epoca questo enorme ospedale ospitava pensate 10.000 pazienti e 300 veri e propri prigionieri, perché era insieme ospedale, prigione e manicomio. Praticamente tutti i drop out, i vagabondi, gli ubriaconi, gli alcolisti, i folli che giravano per Parigi, finivano lì dentro in qualche maniera e ci restavano. Qualche anno prima, poco dopo la rivoluzione francese, questo ospedale era stato diretto, questa è una curiosità, da questo famoso medico Philippinelle, che è l'inventore della psichiatria moderna, in un certo senso un antenato di Basaglia. Philippinelle ebbe l'idea che la malattia mentale poteva essere dovuta anche a disagi e a ragioni anche sociali, di ordine extra medico stretto, per cui liberò tutti i folli che erano detenuti nell'ospedale della Sal Petriere, che tra l'altro si chiama così perché aveva nelle cantine delle cave di San Nitro con le quali si faceva la polvere da sparo, la Sal Petriere. Il dottor Philippinelle ebbe questa intuizione ma gli andò malissimo perché all'epoca i sanculotti della rivoluzione francese si arrabbiavano moltissimo vedendo i folli che giravano per strada, lo misero sotto scacco, lo minacciarono di morte e lo obbligarono a riportare tutti i matti dentro l'ospedale. Insomma è una storia anche questa che vale la pena di citare. All'epoca delle nostre due protagoniste l'ospedale era diretto da un celeberrimo medico, un neurologo che era il dottor Jean-Martin Charcot, questo signore qua, che qui vedete ritratto in un quadro famoso mentre fa un'esibizione con le isteriche. La isterica è proprio Blanche Wittmann, è proprio lei. Questi spettacoli, perché erano un po' lezione e un po' spettacolo, un po' come questo di stasera, venivano fatti una volta alla settimana a Parigi nell'ospedale ed erano un'occasione anche per il bel mondo, partecipavano personaggi, ci andava Flaubert, ci andava Mopassant, ci andava il padre di Proust, era un'occasione in cui parteciparono non soltanto medici, il padre di Proust era un medico famoso, ecco perché ci andava, ed erano anche occasioni scientifiche. La paziente in crisi isterica è proprio lei, pensate, la parola isteria viene da isteron, in greco che significa utero, perché si pensava che questi disturbi che colpivano entrambi i sessi, ma prevalentemente le donne, fossero di origine genitale in qualche modo e lui scatenava le crisi isteriche con un attrezzo medievale che si chiamava la pressa ovarica, cioè stringendo la pelvi delle donne con questa specie di cintura di castità per così dire. E nelle donne scatenava questa crisi isterica, con queste strane pose isteriche e poi le guariva con una pratica ipnotica. Quindi oggi potremmo dire che erano guarigioni vere o false di una falsa malattia probabilmente, ma aveva messo in piedi tutto questo castello diciamo pseudoscientifico che era accettato da tutto il mondo medico dell'epoca, compreso il giovane Freud che fu un suo allievo a Parigi. Qui vedete due immagini, una addirittura fotografica e un disegno di pose isteriche, la catalessia, la posa d'arco. Questi pazienti rimanevano in queste pose anche per tempi lunghissimi e potevano essere risvegliate con l'aiuto dell'ipnosi. Charcot, qui citato da Freud, dice che secondo me in casi simili c'è sempre qualche causa che nasce dal sistema genitale femminile, sempre, sempre, lui era convinto di questa origine. Naturalmente con gli anni l'isteria è scomparsa dai manuali della scienza medica e anche da quelli psichiatrici, questo DSM è la Bibbia della psichiatria mondiale, quello che ne resta viene chiamato disturbo di conversione o disturbo somatoforme ed è sostanza un disturbo fisico senza una causa organica, non intenzionale, di carattere simbolico e di origine psichica. Le prime descrizioni risalgono a un grandissimo medico inglese del 600, Thomas Seidenham. Le manifestazioni sono apparentemente clamorose, paralisi, come avete visto anche, cecità, mutismo, che però vengono sopportate o venivano sopportate da queste pazienti con un estremo stoicismo, senza lamentarsi, senza problemi, tanto che questo veniva chiamato la bella indifferenza, erano indifferenti alle loro disgrazie. L'isteria molto simile al tarantismo, che è stato studiato in tempi moderni in Italia con studi fondamentali di Ernesto De Martino, qui vedete immagini di donne tarantolate, vedete la stessa posa, esattamente la stessa, ma in antico anche potremmo far risalire queste cose ai riti dionisiaci dell'antica Grecia. Probabilmente sono diversi modi simbolici di evocare, incanalare in modo rituale e risolvere i conflitti psichici. Di nuovo il dottor Charcot in una caricatura e con il martelletto accanto a lui alcune pazienti isteriche con la tipica posa d'arco che vedete e qui vedete una foto di gruppo dei suoi allievi, tra i quali non c'è qui Freud, ma ci sono altri grandissimi neurologi fondamentali alla storia della neurologia, come Gilles de la Tourette, sindrome de la Tourette, Broca, Babinski e tanti altri e in mezzo vedete una donna straordinaria che si chiama Blanche Ankeley, Blanche Edwards, di origine inglese ma francese, anche qui ci sarebbe una storia da raccontare perché questa è stata una delle prime donne dottore della storia della medicina, donna di grandissime capacità e intelligenza, pubblicò parecchi lavori, voleva fare carriera universitaria ma glielo impedirono, nonostante questo diventò una neurologa famosa e campò molti anni ancora. Cosa succede quando morre Charcot nel 1893? Decidono di vuotare l'ospedale di tutte queste isteriche, si rendevano conto che probabilmente non erano malate vere, avevano scoperto un modo di scampare il lunario, di avere vitto e l'ho giocati. Queste isteriche devono lasciare l'ospedale e trovare un modo per sopravvivere. Tra queste isteriche ce n'erano alcune molto famose, una delle più famose è Jeanne Avrilla, che in realtà si chiamava Jean Baudon o anche Jean Lafolle, era la star del Moulin Rouge ed era amante e modella di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec aveva come modelle ispiratrici tante donne che un po' venivano dai bordelli, un po' dagli spettacoli, era un uomo così, molto intelligente, molto bravo, ma anche un po' viveva in questo demimonde, lui era originario dell'alta aristocrazia francese, era un conte, ma insomma aveva trovato modo di vivere, di trarre ispirazione da questo demimonde parigino. Cosa succede a Blanche Wittmann? Non sapendo ballare e non sapendo cantare, si cerca un lavoro e guarda caso trova lavoro come assistente di Marie Curie. Ecco perché le due storie convergono insieme. La prima tecnica di radiologia, se vogliamo dire così, o una delle prime in assoluto. E cosa faceva nel laboratorio? Che era questa immensa cavernosa stanza enorme in cui settimanalmente con grandi carri tirati da cavalli arrivavano dei fanghi radioattivi che provenivano dalle miniere attualmente nella Repubblica Ceica di Sancti-Jochemstall, fanghi di Peckblenda, che erano di proprietà della famiglia Rothschild. La famiglia Rothschild donava gratuitamente questi fanghi agli studiosi di fisica. Fondamentalmente loro usavano queste cose per produrre del materiale, del vasellame da cucina, che probabilmente sarà stato radioattivo. Nessuno lo sapeva, mi raccoglieva. Pensate che da una tonnellata di fanghi riuscivano a estrarre 0,1 grammo di radium. Tutte le settimane in questo enorme laboratorio dove pioveva, non era ovviamente riscaldato, il pavimento veniva inondato proprio di questi fanghi radioattivi e la povera Blanche Wittmann, a mani nude, navigando in questi fanghi radioattivi, li raccoglieva per portarli a Marie Curie. Quindi dopo qualche anno di lavoro comincia a subire dei danni agli arti, prima agli arti inferiori, poi anche a un braccio, subisce delle amputazioni e finalmente muore. I suoi diari, diari veri, verranno scoperti solo 25 anni dopo la morte avvenuta nel 1913. Da questi diari viene tratto quel libro che vi ho mostrato all'inizio, la storia di Blanche Marie, che è una storia vera. Questo ci dà questo antefatto, diciamo che spero vi abbia incuriosito, e magari spinto anche a leggere quel libro, ci dà modo di entrare un po' nel tema, cioè le alterne fortune che i raggi X e la radioattività hanno avuto nel corso di tutti questi anni e soprattutto nel corso del Novecento. Inizialmente la fortuna è stata grandissima, c'è stato un entusiasmo acritico e enorme nei confronti delle radiazioni, sia dei raggi X che della radioattività. Qui vedete alcuni prodotti industriali che venivano venduti in tutto il mondo nei primi anni del Novecento, c'è di tutto, dalla cera per i mobili, fino agli unguenti per le articolazioni, tavolette per il mal di testa, palle da golf, bene o male tutto portava questa insegna, questo nome dei raggi X, che faceva vendere, perché erano considerati magici, c'è addirittura un sapone ai raggi X, ci sono lamette da barbi ai raggi X, c'è un whisky ai raggi X, un waltzer da suonare al pianoforte ai raggi X, insomma, i raggi X facevano trend, facevano tendenza, facevano vendere e la gente comprava tutto quello che aveva questo marchio. Questo è addirittura un album di figurine per i bambini, la corsa al radium, raccoglievano le figurine e le attaccavano nell'album. E per rifarsi sempre a Henri de Toulouse-Lautrec, questa è una delle sue ispiratrici, una ballerina delle Folies Bergères, che si chiamava Fuller, e che si esibiva nella Danza del Radium, che era questa in cui faceva ondeggiare questi veli con effetti di luce particolari, molto belli. In America arrivarono al punto di mettere elementi radioattivi dentro l'acqua delle piscine, con l'idea che fossero tonificanti, insomma, ti davano la spinta per nuotare, praticamente. E sempre in America, negli anni 30, usava dai calzolai, farsi fare le scarpe su misura, con questo apparecchio totalmente privo di protezione, voi inserivate il piede qua dentro, il calzolaio, c'era un tubo ai raggi X, il calzolaio vedeva le vostre ossa e disegnava la scarpa, esattamente sulla forma del piede. Ma il massimo per me è questo, è una crema di bellezza che conteneva un sacco di materiale radioattivo, si chiamava Thor Adia, perché c'era il thorium e il radium, cioè due elementi potentissimamente radioattivi, in vendita in Francia negli anni 20, il cui marchio è stato abbandonato addirittura soltanto nel 1968. Vedete che loro pubblicizzano la crema, di bellezza, il sapone, il latte di toilette, il rossetto, il dentifricio addirittura, pieni di elementi radioattivi. Questa è la fortuna che avevano i raggi X e le radiazioni nei primi anni del secolo, ma poi la bilancia si sposta dall'altra parte. E fin dagli inizi della storia, della nostra storia, quando i protoradiologi usavano questa tipologia di apparecchiature, questo è uno schermo fluoroscopico che risale all'anno dopo la scopetta di raggi X, inventato da Edison, per controllare che il tubo fosse caldo, il medico metteva la mano fra il tubo e questo schermo primordiale fluoroscopico, e solo quando vedeva le ossa il tubo era pronto, ma passava un sacco di tempo, intanto prendeva raggi dappertutto, assolutamente senza protezione. E questa è una delle prime radiologhe, è un'americana, Elizabeth Flashman, di San Francisco, che nel 1998 muore, vittima di raggi X, ma ci sono stati casi anche in Italia, già nei primi anni del Novecento. Era gente che si esponeva a quantità vertiginose di radiazioni ionizzanti dalla mattina alla sera senza alcuna protezione. Ma la prima idea che le radiazioni potessero far male, veramente, nasce in America, nasce in America ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Questa è effettivamente una immagine di quel luogo, è una fabbrica a New York, vicino a New York, c'è un aeroporto, anche io ci sono stato, e la fabbrica si chiamava Radium Corporation, produceva degli orologi da polso, il cui nome era Glow in the Dark, cioè il lumino nel buio. Questi orologi venivano venduti alle truppe americane che andavano a combattere in Europa la Prima Guerra Mondiale, ricordate Hemingway, addio le armi, storie famose. Perché li rifornivano i soldati? Perché era una guerra di trincea ed era importante che vedessero loro anche nel buio, senza farsi scorgere dalle sentinelle avversarie. Producevano 250 orologi al giorno, erano tutte operaie donne, fra queste molte immigrate in America dall'Italia e fra di loro tre sorelle, le sorelle Maggia. Come facevano a produrre questi orologi? Avevano dei vasellini pieni di sostanza radioattiva, intingevano il pennellino in questa sostanza, inumidivano sulla lingua e poi dipingevano i numeri. E con questo naturalmente assorbivano, non raggi X, assorbivano le radiazioni dei radionuclidi, quindi raggi gamma, raggi alfa, raggi beta, sulla pelle, nella bocca e sulla lingua. Una di queste sorelle, Amelia, muore per primo a 25 anni dopo solo 4 anni di lavoro in fabbrica. Poi cominciano a morire tutte queste operaie. E finalmente nel 25 uno dei primi lavori sui danni da radiazioni, in questo caso da radionuclidi, è di questo Harrison che sulla JAMA, una rivista famosa che ancora si pubblica, pubblica questo lavoro che si chiama Alcuni pericoli non riconosciuti legati all'uso e all'impiego di sostanze radioattive, eccetera, eccetera. Un lavoro fondamentale che però passa abbastanza inosservato. Ma qualcuno ci pensa che queste ragazze potessero morire per il tipo di lavoro che facevano. Alcune di loro sopravvissute o gli eredi, i parenti, citano per danni, denunciano la fabbrica. Viene fatto un processo. Pensate che anche se si trattava dell'America dove in genere le cose vanno veloci, ci vollero ben tre anni solo per stabilire la data della prima udienza. A questo punto sopravvivono solo cinque ragazze, tutte le altre sono morte, sopravvivono malate. La sentenza arriva nel 29 e l'accordo è 10 mila dollari sia per le vittime che per le sopravvissute più 400 dollari all'anno di pensione annuale e cure mediche per le sopravvissute. Proprio, veramente pochissimo, quasi nulla. Ora, quali sono gli effetti biologici? Qui entriamo nella parte un po' più difficile, se volete. Spero che riusciate a seguirmi. Gli effetti biologici delle radiazioni si dividono in due gruppi. Effetti deterministici ed effetti probabilistici. Perché è importante distinguerli? Perché i primi si hanno soltanto per dosi molto elevate di radiazioni e hanno una soglia, cioè si verificano solo al di sopra di una certa soglia. Al di sotto non c'è nessun effetto, solo al di sopra. I secondi invece non hanno una soglia, cioè sono casuali e apparentemente non connessi alla dose. Dose che si misura con varie unità di misura, ovviamente qui non sto a raccontarvele tutte, ma insomma la più importante, la più semplice è il sievert. Sono unità molto grandi, per cui generalmente si usano dei sottomultipli, in particolare il millisievert o il milligray, per esempio. Noi normalmente siamo esposti alle radiazioni, anche se non facciamo esami radiologici, siamo sempre esposti alle radiazioni. Da quando siamo nella pancia della mamma fino a che siamo vivi. E perché siamo esposti alle radiazioni? Perché c'è un fondo naturale, un fondo naturale esterno-interno. Quello esterno è legato soprattutto ai raggi gamma di provenienza cosmica, che arrivano sulla Terra. Quindi chi ne prende di più sono le persone che vivono a grandi altitudini, per esempio sulle Ande o sulle Alpi, oppure i piloti d'aereo, le hostess, quelli che stanno sempre a grandi altezze. Raggi gamma, voglio dire. E poi ci sono radionuclidi che vengono incorporati nell'organismo, o per ragioni naturali o per ragioni artificiali. Per esempio il potassio radioattivo di Chernobyl, è ancora in giro forse, ma anche se è un tempo di decadimento non molto lungo. La dose che si prende ogni anno, qui in Lombardia, è di 2-3 millisievert. Il 10% della popolazione italiana riceve oltre 3 millisievert. Sono quelli o che vivono a grandi altitudini o che vivono in zone vulcaniche, dove la radioattività ambientale è molto maggiore. Per esempio Pozzuoli, o vicino all'Etna, o al Vesuvio. Zone vulcaniche. Il fondo naturale comunque esiste in tutta la Terra. Pensate che il milanese medio, diciamo, da quando è feto fino a quando invecchia, può prendere fino a 90 millisievert nel corso di 30 anni. 90 che raddoppiano a 60, triplicano a 90, eccetera. 90 millisievert equivalgono a circa 10 TAC total body. Non sono una dose piccolissima. Una delle cause principali di radiazione naturale è questo, è il gas radon, che c'è anche qua. Il gas radon è un gas che si sprigiona dal sottosuolo e sale in superficie attraverso le spaccature delle rocce, entra nelle case. È naturalmente più importante nelle zone vulcaniche, ma c'è dappertutto, con livelli variabili geograficamente. entra dappertutto e viene respirato, inalato di più da quelli che vivono ai piani bassi, ovviamente. Noi qua siamo, come quasi tutte le radiologie, siamo sottoterra e quindi abbiamo un po' più di gas radon, tanto è vero che ci hanno messo dei dosimetri alle pareti della radiologia. Non sono grandi dosi, ma è una delle cose che spiega di più, diciamo, la dose naturale. Questo è uno dei dosimetri da radon. Il radon è un prodotto di degradazione dell'uranio, ha un'emivita molto breve, però non è rischioso solo in sé, ma perché decadendo genera polonio radioattivo, che ha un'emivita più lunga. Il prodotto finale è un decadimento progressivo di questi elementi, che è un isotopo stabile, non più radioattivo, un isotopo del piombo. Questi elementi radioattivi generano soprattutto nuclei di elio, particelle alfa, che sono particelle ionizzanti molto potenti, diciamo così, più potenti di raggi X come effetto biologico, e si pensa che siano responsabili della maggior parte dei tumori polmonari dei non fumatori. Voi sapete che i tumori polmonari colpiscono nell'enorme maggioranza fumatori o ex fumatori, parliamo dell'85% di tutti i tumori polmonari, ma il restante numero di tumori polmonari, 10-15%, a cosa è dovuto? Ci sono fattori genetici, c'è il gas radon, che è l'elemento più importante, ma ci sono anche altri fattori, per esempio l'inquinamento ambientale, la gente lo enfatizza molto, ma per questa ragione in realtà è una causa minoritaria, oppure esposizioni professionali all'amianto, per esempio, e ad altre cose. Certamente il cancerogeno principale per il polmone è il fumo, su questo non c'è dubbio. Gli esperti ritengono che un'esposizione da gas radon media, cioè 300 becquerel per metro cubo, equivalgano a circa 10 millisievert all'anno, cioè ad un esame TAC total body. Pensate che a livello internazionale non ci sono regole sicure condivise per il gas radon, per esempio la Spagna non ha nessuna regola, in Italia si ammettono 400 becquerel per metro cubo per gli edifici che esistono già, 200 per gli edifici nuovi. Il monitoraggio del radon e la bonifica delle vecchie abitazioni, senza paranoia naturalmente, però è una cosa che almeno si dovrebbe mettere in campo, dovrebbero essere associati alla lotta contro il fumo, cioè se vogliamo veramente abbattere l'incidenza e la prevalenza dei tumori polmonari, dobbiamo prima di tutto lottare contro il fumo, ma anche contro questi fattori. Per quanto riguarda l'effetto biologico delle radazioni ionizzanti, c'è una regola internazionale che risale agli anni 70, cioè non è antichissima, questa teoria si chiama LNT, cioè lineare senza soglia. Cosa significa? Significa che non ci sarebbe una dose al di sotto della quale non c'è un effetto negativo, a causa proprio di quegli effetti probabilistici stocastici, non di quelli deterministici che hanno una soglia, quelli probabilistici che non avrebbero soglia. In pratica non c'è una dose al di sotto della quale non c'è la possibilità di effetti negativi. E come si è arrivati a formulare questa teoria? Semplicemente estrapolando gli effetti sugli organismi viventi delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki del 1945, se ricordo bene. Estrapolando verso il basso, perché a un certo punto non ci sono più prove di questo. quindi per precauzione si è pensato che comunque anche andando verso dosi sempre più bassi ci fossero effetti negativi. Ma per valori di circa 50 o anche 100 millisievert, cioè equivalenti a circa 5-10 TAC total body, non c'è la prova scientifica di questi effetti. Attenzione, come vi ho detto all'inizio, un'esplosione nucleare, bomba atomica, Chernobyl, non può assolutamente essere paragonata all'imaging diagnostico che si fa negli ospedali, sia quello radiologico con raggi X, sia quello medico nucleare con radionuclidi, perché sono dosi estremamente più basse, contenute con tecniche molto sicure, e anche perché i raggi X veri e propri, come dicevo all'inizio, sono esposizioni puntiformi. Si stima comunque, se questo paradigma è vero, si stima che il rischio aggiuntivo di sviluppare nell'arco della vita un tumore letale dovuto alle radiazioni sia pari al molto basso 0,5% per 100 millisievert di dose al corpo intero, cioè 10 TAC total body, anche più. In un adulto un singolo esame TAC total body potrebbe causare un rischio aggiuntivo di tumore dello 0,08%. Questi sono dati che ho preso da quel libro che vi ho mostrato prima, Strange Glow, che è un libro molto molto serio. Pensate che un radiogramma del torace per paragone dà 0,02 millisievert, una dose praticamente omeopatica, oppure quegli scanner degli aeroporti, quelli esterni, diciamo, che funzionano a regge X danno 0,000, tant'è che non sono controindicati nemmeno per le donne incinte. Comunque in Italia si eseguono ogni anno milioni e milioni di esami radiologici e quindi se questo paradigma fosse vero si potrebbe pensare che le radiazioni ionizzanti potessero essere responsabili di danni significativi. Però c'è tutta una grande serie di studi e di opinioni scientifiche che dice il contrario, cioè dice che i bassi livelli di radiazioni, come quelli che si usano nella diagnostica, non fanno male o fanno poco male o addirittura fanno bene. Quindi è esattamente il paradigma opposto. Qui vi ho messo un lavoro fondamentale dell'American Journal of Ringenology di Bernard Cohen di Pittsburgh che dice rischio del cancro da radiazione di basso livello. È molto probabile che i rischi connessi a basse dosi di radiazioni siano molto sovrastimati da quella teoria lineare senza soglie. In particolare per indurre tumori sarebbe probabilmente necessario di superare un grey all'anno. Ma vedete che si introduce un concetto di soglie, cioè in realtà sarebbero tutti effetti deterministici. Gli effetti stocastici non esisterebbero ma sarebbero soglie un po' più basse naturalmente. Esiste anche una teoria serie che si chiama ormesi dal greco che significa stimolare, stimolazione. L'ormesi è il principio secondo il quale grandi dosi di qualcosa fanno male e piccole dosi fanno bene. Per esempio un bicchiere di vino la sera fa bene 10 litri vi mandano in cirrosi. Un po' di vitamina D fa bene o di vitamina A molto fa male. Un po' di sole fa bene molto fa venire il melanoma. Questa è una legge di natura che è stata formulata da Arnold Schulz alla fine del 1800 e che è vera e valida e che era stata profeticamente anticipata da questo grande medico del rinascimento che si chiamava Theofrasto Bombasto von Ohenheim detto Paracelso laureato a Ferrara c'è ancora la lapide a Ferrara nella sede dell'università che nel suo libro che si chiamava Il Paragrano dice è la dose che fa il veleno cioè tra l'effetto benefico e l'effetto tossico è solo una questione di dose. Era un grande medico ma anche un mago un alchimista insomma prendiamo con un po' di senso critico ma ha detto cose importanti fra le quali queste cioè sono le opere non le chiacchiere come quelle che sto facendo adesso che fanno il medico cosa verissima i medici non escono dalla laurea di medicina escono dalla pratica insieme con la cultura quindi questo romesi sarebbe una relazione dose risposta caratterizzata da un effetto bifasico cioè inizialmente per dosi molto basse si avrebbe una stimolazione funzionale e poi per dosi alte si avrebbe un effetto negativo questo è provato per migliaia di sostanze chimiche o agenti fisici e capite bene che se questo è vero si contrappone in modo totale alla teoria lineare senza soglia che è tuttora vigente ed è legale cioè quella alla quale noi dobbiamo ubbidire e ubbidiamo effettivamente nel nostro lavoro contraddice completamente secondo queste teorie basse dosi di radiazioni potrebbero avere effetti benefici perché perché stimolerebbero l'immunità e i processi di riparazione dei danni del DNA riducendo addirittura il rischio di neoplasie e persino la tossicità delle stesse radiazioni ad alta dose sapete che per esempio i radioterapisti di regola se devono irradiare una persona pensate a una donna che è stata operata di cancro della mammella deve fare anche la radioterapia prima fanno un campetto a bassa dose in quel punto lì poi dopo un po' di giorni cominciano a fare la dose terapeutica questo campetto a bassa dose protegge i tessuti sani circostanti alla zona che poi verrà trattata capite questo è Ormesi fondamentalmente possiamo chiamare come ci pare ma è l'applicazione di questo principio del resto la vita si è evoluta i meccanismi di riparazione cellulari si sono sviluppati se ci pensate in presenza di un fondo naturale di radioattività ben più elevato la vita il mondo era pieno di vulcani era un mondo estremamente radioattivo e la vita si è sviluppata lì non è stata bruciata dalla radioattività ci sono altre cose curiose che mi piace ricordare sto finendo questa chiacchierata gli inglesi sono gli unici ad aver tenuto un registro della mortalità e delle cause di morte di radiologi e tecnici di radiologia dall'invenzione dei raggi X praticamente fino ad oggi questo registro ci dice che i radiologi morivano un po' di più morivano prima e morivano più di tumori fino agli anni 50 da lì in poi si è invertito il trend cioè campano di più si ammalano di meno di tumore perché le dosi che prendono esistono ancora ma sono dosi molto più bassi quindi c'è un possibile effetto protettivo o addirittura c'è un caso famoso qualche anno fa più di dieci anni fa nella città di Taiwan si scoprì che questo complesso di cari un intero quartiere era stato costruito illegalmente con dei blocchi di cemento provenienti da una centrale radioattiva dismessa ed erano blocchi altamente radioattivi cobalto radioattivo pensate che ha un tempo di dimezzamento enormemente lungo enormemente superiore alla vita umana quindi diecimila abitanti di ogni età furono sottoposti per molti anni a una dose media oltre a quella ambientale che vi ho già detto di circa 50 millisievert cioè 5 TAC total bone i decessi per neoplasia erano molto inferiori a quelli della popolazione generale a parità di alte condizioni estremamente inferiori a parità di altri fattori anche le malformazioni neonatali erano estremamente meno frequenti quindi anche questa sarebbe una prova che basse dosi poi mica tanto basse relativamente basse fanno più bene che male in realtà quindi molti studi qui vi ho riportato alcuni da grandi riviste riviste molto importanti sembrano dimostrare che l'esposizione a basse dosi può far bene addirittura prolungare la vita e ridurre l'incidenza di neoplasia stimolando i sistemi immunitari e di riparazione cellulare la teoria ufficiale sostiene che il danno da radiazioni non ha soglia ed è sempre comunque cumulativo ma questo è contraddetto dalla pratica clinica che vi ho detto prima quindi è possibile io ritengo probabile che le basse dosi abbiano un effetto protettivo ma che sopra un certo livello ovviamente poi le cose si invertono e prevalgano gli effetti negativi sarebbe forse bene introdurre una soglia pratica o un modello ormetico volendo anche per gli effetti delle basse dosi perché questo spiegherebbe meglio le evidenze disponibili in sostanza per gli esami radiologici tradizionali a parte le angiografie che sono procedimenti a dose molto alta o a parte ripetuti esami TAC non uno o due TAC ma tante TAC il rischio probabilmente è molto basso probabilmente vicino a zero o anche inferiore a zero quindi la teoria lineare senza soglia resta il paradigma legale al quale ripeto noi ci adeguiamo a norma di legge ma non esistono prove che basse dosi siano dannose vari studiosi richiedono una revisione delle ipotesi lineare senza soglia revisione che difficilmente si otterrà perché ci campano sopra intere categorie di persone in particolare i fisici medici che lavorano negli ospedali ma se fosse accettato questo comporterebbe una modifica radicale delle idee noi ci adattiamo a queste raccomandazioni che vengono fuori fondamentalmente dal principio di precauzione che nasce nell'87 a Montriol il cosiddetto protocollo di Montriol il principio di precauzione la politica di gestione del rischio che viene applicata in circostanze caratterizzate da elevata incertezza scientifica quindi ammettono che ci sia incertezza ma per stare dalla parte dei bottoni fanno finta o si decide di far finta che comunque l'effetto negativo ci sia però è un dato di fatto che il principio di precauzione dice proprio il protocollo di Montriol può essere invocato solo se l'azione che noi poniamo in essere per evitare un possibile rischio o danno non presenta effetti collaterali o presenta minori effetti collaterali in questo caso dell'esposizione i radiologi lavorano seguendo tre principi giustificare l'esame deve essere giustificato non lo faccio se non è giustificato se non c'è una ragione seria per farlo ottimizzato devo lavorare con la tecnica migliore alla dose più bassa possibile limitando la dose il principio in acronimo si chiama ALARA cioè devi dare la dose più bassa che è ragionevolmente disponibile non più bassa in assoluto ma quella che è ragionevole ovviamente per evitare gli effetti potenzialmente negativi la radioprotezione è regolata da leggi e disposizioni nazionali e internazionali che risalvono a questi anni sono applicate anche in Italia e anche in questa regione il radiologo come me ha piena responsabilità io posso decidere di rifiutare un esame se mi viene una richiesta del medico di base che sulla ricetta rossa mi dice tacca addominale per sospetto appendicito in un bambino di 8 anni io rifiuto di fargliela perché l'esame è l'ecografia per cui cambio la prescrizione informo la famiglia la madre il padre chi volete e cambio l'indagine questo è legale ed è morale devo fare questo ma per farlo è necessaria o sarebbe necessaria una collaborazione fra clinico radiologo e pazienti questo in teoria nella pratica non è tanto facile perché alcune volte addirittura vengono pazienti con richieste di esami radiologici non motivate per esempio controllo e queste dovrebbero essere rispinte perché non sono giustificate come diceva il filosofo Russell Bertrand Russell in tutte le cose comunque è intelligente mettere un bel punto interrogativo su quello che per lungo tempo è stato dato per sicuro cioè nel nostro caso l'effetto biologico sempre negativo questa è una formula che a voi non interessa però mi interessa a me cioè la qualità delle immagini che noi produciamo nasce da un compromesso da un compromesso tra il rumore di fondo che peggiora la qualità delle immagini e invece la qualità la nettezza il contrasto che noi vogliamo produrre oggi abbiamo delle nuove tecniche per esempio l'attacca nuova che abbiamo qua sotto l'attacca doppia energia che abbiamo presentato pochi mesi fa c'era anche l'assessore Gallera qui è un'attacca che lavora con tecniche di ricostruzione iterativa una cosa un po' complicata ma consente di lavorare con dosi bassissime pensate che per un'attacca del torace ad alta risoluzione che già eroga solo un due millisievert una dose già molto bassa possiamo calare fino al 60% senza perdere informazioni in pratica è una cosa che fino a qualche anno fa non ci sognavamo nemmeno è come la quadratura del cerchio avere immagini uguali o anche più belle con dosi più basse sembrava impossibile ma fino a un certo punto non più di così non più di così per l'immagine radiologica i possibili rischi devono essere soppesati con cosa? con il rischio di non fare l'esame necessario di non fare l'esame giusto o di non farlo bene perché se calo la dose troppo posso avere un esame non diagnostico ed essere costretto a rifarlo dando una dose maggiore pensate ai bambini sapete quanti bambini fanno la risonanza magnetica cerebrale per indicazioni per le quali magari sarebbe meglio l'attacca ma si fa la risonanza per non dare raggi X si dà il caso però che per l'attacca si può farla bambino sveglio se è minimamente collaborante o leggermente sedato per fare la risonanza ci vuole l'anestesia generale con l'anestesista l'anestesia generale ha un rischio di morbidità e mortalità molto consistente molto superiore all'eventuale rischio delle radiazioni ionizzanti capite? quindi per evitare un danno teorico e piccolo espongo il bambino a un danno concreto e molto più grande quindi c'è il rischio della radiofobia queste considerazioni hanno portato negli anni negli ultimi anni a creare delle iniziative che si chiamano image gently choosing wisely cioè fare esami radiologici non invasivi non dannosi scegliere con saggezza e quindi ridurre sempre di più le dosi ma questo ha avuto l'effetto di fomentare una cultura della paura nei pazienti ma forse anche più nei medici i medici fanno fatica a firmare a ordinare certi esami ma voi vi rendete conto che il mezzo di contrasto si ha teoricamente lo iodio qualche possibile effetto negativo ma sono effetti estremamente inferiori a quelli di una puntura di penicillina nessuno ha mai pensato a farvi firmare un consenso informato per una puntura di antibiotico no? mai eppure ci sono carte da firmare consensi e burocrazia a non finire c'è tutta una paranoia insomma legata a questa cosa ma noi ci dobbiamo chiedere fino a che punto possiamo evitare davvero i raggi X o ridurre moltissimo la dose e fare ancora la diagnosi giusta perché sotto un certo livello non la faccio più oggi per esempio più del 5% degli esami TAC pediatrici risulta già inadeguato ai fini diagnostici per la dose troppo bassa quindi bisogna ripeterlo è chiaro che a questo punto si dà dose inutile e quindi anche se per varie ragioni non ci sentiamo ancora pronti ad abbandonare il paradigma ufficiale che è legge quindi lo dobbiamo seguire possiamo ammettere che questo modello non è mai stato adeguato per giustificare decisioni cliniche a livello dei singoli pazienti compresi i bambini certamente tutti gli esami radiologici richiedono una giustificazione adeguata ma nella teoria lineare senza soglia sia lineare che senza soglia probabilmente non sono veri almeno finché lavoriamo al di sotto di quella soglia ormetica diciamo così dei 50 più o meno 100 millisivro tra l'altro l'incidenza di tumori in bambini piccoli nelle città di Hiroshima e Nagasaki si è visto che non era significativamente maggiore di quella dei bambini non esposti alle radiazioni questo vuol dire che probabilmente anche l'idea che i bambini siano più radiosensibili degli adulti non è vera probabilmente è vero il contrario cioè hanno capacità riparative ancora maggiori di quelli degli adulti in sostanza bisogna con saggezza con saggezza e con equilibrio ma bisogna riabilitare la radiologia vi ho fatto ho cercato di farvi vedere un po' quella che è stata l'evoluzione dell'arco del novecento delle fortune per così dire della radiologia presso il pubblico generale dal grande entusiasmo acritico fino alla demonizzazione totale cercando oggi di raggiungere un equilibrio e per finire se mi permettete alcune perle radiologiche la prima è che tutti gli esami laboratori radiologici qualsiasi tipo di esame medico non è un oracolo ma è solo una macchina un frullatore per produrre probabilità noi introduciamo nel nostro frullatore la probabilità pre-test prima dell'esame e ne tiriamo fuori la probabilità post-test quella dopo l'esame è un frullatore statistico quindi gli americani hanno inventato la GIGO-LOW che è la GARBAGE-LOW cioè se mettete in questa macchina mettete dentro spazzatura tirate fuori un sacco di spazzatura è importante che le informazioni iniziali che ci mettete dentro siano informazioni giuste e questo compete al radiologo ma anche al clinico al medico curante non devono essere informazioni generiche devono essere informazioni corrette solo così funziona bene la macchina della medicina il solo uso razionale di un esame diagnostico qualunque dall'esame del sangue fino all'attacca è quello di ridurre le incertezze se viene fatto per altre ragioni per esempio per soddisfare la mia curiosità eticamente questo non è corretto sono spese magari radiazioni inutili quindi nell'arco degli anni le fortune della radiologia sono andate crescendo poi calando e adesso più o meno si cerca di raggiungere un equilibrio e la cosa che veramente vorrei vi portaste a casa questa sera è che gli unici esami davvero dannosi come dicevo prima col giornalista scientifico sono quelli inutili questa è la verità non bisogna preoccuparsi per gli esami necessari assolutamente mai ma proprio per finire vi vorrei anche domandare a tutti voi quale tipo di dottore pensate sia dottore giusto di quale tipo di dottore pensate eventualmente di avere bisogno perché anche questo fa parte del nostro discorso in un certo senso avete bisogno del luminare che non sbaglia mai infallibile portato sulle prime pagine nelle rubriche della salute del correre della sera autoritario autorevole che vi priva della vostra capacità decisionale qualche volta si può anche scegliere questo perché uno se ha dei problemi di salute si può sentire così debole così incapace di decidere che gli piace affidarsi a una figura paterna autorevole infallibile apparentemente infallibile oppure avete bisogno oggi di questo dottore perché tanti di voi sicuramente ricorrono alla rete a internet questo è normale fisiologico per carità nessuno dice che sia un male però se si fa solo questo se si da retta solo questo si corre il rischio di confondere le idee più che altro io penso che forse ci sia un tipo di dottore che si adatta a tutte le esigenze un dottore che si occupa di dare ai pazienti la capacità di decidere in modo tale che la conversazione si svolga tra esperti uno è l'esperto della medicina l'altro è l'esperto della propria vita della propria esperienza in modo tale che dottore infermieri medico creino un team che lavora insieme quindi tra dottore e paziente c'è necessariamente per forza di cose una simmetria delle conoscenze ma noi possiamo cercare di colmare in parte questa simmetria con una informazione semplice e trasparente come quella che modestamente ho cercato di darvi questa sera ma che non nasconda le difficoltà non nasconda che ci sono ancora ombre cose ancora da capire perché la medicina come tutte le scienze non è fatta di verità assoluta è fatta di verità probabilistiche relative che possono anche cambiare nel tempo e essere riviste certamente alcune cose sono considerate vere al di là di ogni ragionevole dubbio il corpo umano è composto da cellule informazioni genetiche ereditarie apportate dal DNA voi potete essere per esempio dei ricercatori che si possono sforzare di verificare o meglio falsificare per dirla con Karl Popper un grande filosofo della scienza queste cose ma la probabilità che potete avere di negare queste affermazioni è talmente bassa che insomma praticamente nessuno ci prova più ma tanti campi della medicina sono ancora soggetti a studi e possono ancora essere modificati come quello che ho cercato di esporvi questa sera quindi mettere in luce anche aspetti ancora controversi ancora oscuri rinunciando ad atteggiamenti paternalistici tutto questo perché il paziente correttamente informato possa essere in grado se lo vuole ripeto se lo vuole di prendere autonomamente le decisioni che riguardano la sua vita la sua salute in modo autonomo e responsabile grazie veramente a tutti per la vostra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti